Certo, grazie ancora e darei la parola a Maite García Sánchez sul tema della progettazione di nuovi spazi abitatini. Grazie Maite. Buongiorno a tutte e a tutti, io vi parlerò di alcuni esempi in particolare per provare in questo breve tempo che abbiamo di affrontare dei temi che sono posti nel bando e che verranno anche valutati tenuti in conto per premiare i progetti che spingano di più su queste questioni di cui parleremo. Ovviamente sono progetti di diversa scala, per cui non è sempre facile applicare queste soluzioni al proprio caso, però è interessante per parlare dei temi in un modo più largo. Quest'immagine che mi piace molto per iniziare a parlare di come sono cambiati i modelli abitativi negli ultimi anni è l'immagine di un'immagine. Il quadro che stanno trasportando è un'immagine scattata nel 1993 di Andrea Sgursky, un importantissimo fotografo, l'operaio che vediamo a destra sull'immagine è un operaio di Sotheby's, stanno spostando il quadro che verrà messo all'asta. È interessante perché parla dello spostamento di questo modello, del decadimento del modello dei Grand Ensemble francese a cui fa riferimento esplicito all'immagine, si tratta di un edificio nel quartiere di Monassa a Parigi, questa immagine è del 2013, quindi diciamo dopo la crisi del 2008-2009, e ci serve per iniziare a parlare di come è cambiato il modello, non solo dal punto di vista economico, ma anche dal punto di vista sociale, ancora di più dopo il 2020. Certe barriere tra lavoro, abitare, spazio pubblico, spazio privato, spazio in between, non solo in between fisicamente, ma anche in between in un senso anche delle funzioni, le barriere si sono un po' diffuse, non vuol dire quindi, come diceva Claudio, che dobbiamo ricorrere a fare tantissimi spazi multifunzionali, polifunzionali, che mi è piaciuto molto come l'hai descritto, finiscono a essere monofunzionali o vuoti funzionali, perché nessuno poi sa effettivamente cosa farne, perché non era stato pensato nessuno scopo particolare, quindi a volte adesso nei nuovi spazi abitativi dobbiamo imparare a includere degli spazi molto flessibili, aperti e altri molto ben descritti nelle sue funzioni, per assicurare l'esito, per esempio parlava anche Simonetta, gli spazi commerciali dovrebbero già nascere con una vocazione adscritta a qualcuno che sappiamo che muoverà poi quella macchinaria del commercio, inteso non solo come uno spazio di scambio economico, ma anche di scambio ad altri livelli. Poi faremo sempre in tempo a buttare giù quella parete che non piace a quello che viene ad occupare lo spazio commerciale tra cinque anni, invece altre caratteristiche sono importanti che dal momento in cui si parte siano ben definite. Questa è una cosa che si è imparato appunto dopo tutti questi cambiamenti degli ultimi anni. La domanda è più plurale, rispecchia i cambiamenti abitativi, cambiamenti economici, cambiamenti sociali e ci sono nuovi spazi differenziati. C'è anche una nuova comprensione di quanto dobbiamo unire i nuovi progetti al contesto urbano esistente, quindi c'è questa idea che suona un po' a parole vecchie degli anni Ottanta, ma del costruire nel costruito, pur quanto abbiamo smesso di dirlo come rigetto a tutte queste teorie degli anni Ottanta, noi sempre costruiamo nel costruito, perché dove non è costruito in genere non si può costruire, quindi abbiamo sempre un rapporto con la città esistente, anche quando siamo, adesso vedremo un esempio, in un master plan di un nuovo quartiere, anche lì c'è un costruito, che sarà quello nuovo che incontreremo, quindi adesso c'è anche un'altra sensibilità di come inserirsi nella città. Questo il bando fa anche riferimento, premia i progetti che saranno attenti, non lo dici in modo esplicito, però ai piani terra alla fine, quella concordanza tra la città e l'edificio e quindi questi tre esempi incidono molto su questi temi. Quindi l'idea di un edificio città, città edificio, quindi reciproco tra la città e l'edificio e l'edificio e la città, come l'edificio può essere una comunità con tante variabili come la città stessa, il percorso tra la strada fino alla camera da letto, quindi la gradazione dello spazio più pubblico allo spazio più privato, e la flessibilità abitativa, che non vuol dire quindi uno spazio indefinito, vuol dire la possibilità di avere diversi spazi definiti. Quindi il primo dei tre esempi che vedremo insieme è il Calcbrite, è un edificio situato a Zurigo, inizia il progetto nel 2017, scusate, nel 2007, con un'iniziativa dei vicini di questo quartiere che adesso vedremo, che vogliono, si mettono insieme e vogliono fare qualcosa di quel vecchio deposito dei tram che era rimasto tra impianti infrastrutturali nel loro quartiere. Si organizzano e poi il percorso finisce nel 2014, quindi è un percorso non corto con l'edificio costruito. Nel 2007 fanno un concorso di architettura, questo gruppo di cittadini poi convergono in una cooperativa e sono quelli che hanno portato avanti il progetto, che è la cooperativa Calcbrite. È un edificio con una grande superficie totale, oltre 22.000 metri, quasi 23.000 metri quadri, di cui la superficie residenziale rappresenta poco meno del 40%, per cui adesso che andremo a vederlo capirete. Però c'è un grandissimo mix funzionale che parte sempre dalla cooperativa, quindi non è che loro solo si sono occupati della parte residenziale, ma hanno gestito anche la parte commerciale e di servizi e di spazi comuni, pubblici e aperti. Questo è il cortile di questo edificio, è una delle immagini più impattanti, c'è proprio un oasi dentro questo edificio nella città di Zurigo. Cos'è questo edificio? Allora, è una cooperativa proprietà indivisa, come abbiamo parlato, sono 98 unità abitative, pensate per poco più di 250 abitanti, ci sono anche postazioni da lavoro, spazi comuni, commerciali, c'è anche una piccola foresteria e un deposito tram. Finché ho detto l'ultima cosa, sembrava magari un solito progetto, poi abbiamo un deposito tram. Loro sono, come introducevo prima, propongono un modello economico innovativo, perché è una cooperativa imprenditoriale non profit ed produce la stessa cooperativa, lavoro, occupazione, introiti, che vengono rinvestiti nella stessa operazione. Quindi questo è molto interessante. Per riuscire a sostenere certi progetti sociali si conta anche sulla parte commerciale, quindi appartiene tutta allo stesso circuito economico, diciamo. Quindi ci sono abitazioni permanenti e temporanee, le abitazioni sono sempre in affitto, quindi sono in affitto lungo o a breve termine, e anche temporanee, appunto come estremo c'è la foresteria, ci sono degli atelier, il bed and breakfast, le attività culturali, un asilo nido, c'è un ristorante, un bar, uffici, un centro conferenze, un cinema. Quindi adesso andremo a vedere. Quest'area è un'area di proprietà pubblica concessa per 90 anni, in questo caso veniva dato dal contesto, nel senso che a Zurigo la questione normale è che il terreno sia concesso in diritto di superficie, non viene mai, è sempre proprietà della città, quindi non appartiene a un accordo particolare, ma era così. Il Comune comunque ha dato questo suolo in utilizzo a questa cooperativa con l'impegno di realizzare il deposito tram, che era già lì, e di costruire una comunità collaborativa per questo nuovo luogo. Quindi questo è lo spazio dove poi vedremo l'edificio sorgere, ci sono i binari del treno e c'è il deposito del tram. È uno spazio triangolare, con difficile accesso, circondato da vie pesanti infrastrutturali, quindi non verrebbe in mente, come prima proposta, pensare a uno spazio abitativo con tante connessioni pedonali con l'esterno. Come hanno risolto il problema del deposito e che hanno lasciato il deposito tram al piano terra, si sono elevati, quindi lo spazio pubblico di ingresso all'edificio avviene al terzo piano, attraverso questa scala, quindi è collegato alla strada in cui c'è anche la terrazza del bar, c'è anche un altro bar, un ristorante all'interno, e questo spazio del cortile è aperto a tutti, è una continuazione della strada. Si tratta quindi di una città edificio edificio città, c'è questo rapporto in cui dentro a questo edificio avviene un po' tutto. Questo si può realizzare particolarmente a Zurigo, dove c'è un tessuto di cooperative molto attivo, per cui anche l'energia che si trova in questo progetto non è una novità, non viene dal nulla, però è sempre interessante anche guardare il più alto possibile in questo tipo di organizzazioni. Come vi dicevo prima, ci sono tantissimi usi, adesso lo vedremo in uno schema, e ci sono anche tanti spazi comuni, è superficie dedicata a delle joker zimmer, che sono delle stanze jolly, che poi possono unirsi a degli altri appartamenti per farli più grandi, più piccoli, oppure essere stanze indipendenti, dove tu puoi invitare un amico e usarlo in condivisione tutta la comunità. Questo è lo schema delle funzioni, come vedete è particolarmente complesso, dopo vedremo una sonometria dove si capisce meglio, però diciamo questo è uno schizzo di progettazione, partiva già con quest'idea di inglobare tantissime cose, quasi come se fosse appunto un piccolo quartiere. Quindi questa, la parte verde che vedete, nella parte superiore, sono gli alloggi, le residenze, la parte inferiore è la parte dedicata agli usi più commerciali, gli uffici di più scambio con la città, il tram e poi al terzo piano, questo spazio pubblico, la piazza cortile. Si possono usare anche tutte queste terrazze sopra, quindi l'edificio è utilizzabile anche fino alla copertura. Questo è l'ingresso che vedevamo nell'altra immagine. Questo è il piano terra, come vedete, molto particolare, in cui c'è un grandissimo deposito biciclette, i binari del tram e tutti gli spazi pubblici aperti alla città. Qui c'è l'ingresso della grande scalinata. Questa è una fotografia vera, non è un fotomontaggio bizzarro, dal ristorante posto al piano terra verso i binari che si mostrano con una grande vetrina. Quindi non stanno provando a negare questa realtà di infrastruttura pesante di fianco all'abitazione. Lo hanno risolto dal punto di vista dell'ingegneria, quindi le vibrazioni non passano al resto dell'edificio, c'è uno studio molto accurato anche della trasmissione del rumore, eccetera, eccetera. Una volta risolto, effettivamente, il deposito diventa parte dell'edificio. Questa è un'immagine notturna, in cui c'è l'edificio e i treni che passano sotto il deposito. Quindi è una situazione urbana molto complessa e difficile da replicare, ovviamente. Questa invece è una vista del cinema che occupa anche parte del piano terra. Adesso usciamo da questo spazio attraverso questa scala di continuazione della strada. Questo è il terzo piano, dove abbiamo già la vista nel cortile e qui iniziano a coesistere gli spazi abitativi e spazi di servizio. Quindi uno spazio pubblico totalmente può entrare dalla strada, però essendo recintato dall'edificio nella parte superiore, pur quanto aperto, gli abitanti fanno un uso intermedio. Quindi c'è questa interessante gradazione di spazi, come dicevamo prima, dalla strada alla loggio. La soglia non è più la porta di casa, come nel paese dove cammino, entro e sono già in casa, ma c'è una soglia che si allunga e che si stratifica in diversi tipi di spazi. Questa è una novità da accogliere, che è recente nei modelli abitativi che esploriamo, anche perché la parte privata, come diceva anche Simonetta, diventa sempre più piccola. Quindi abbiamo bisogno di quei metri che prima avevamo nella casa di famiglia, nel cortile che condividevamo magari con un'altra famiglia. Adesso magari è un cortile più grande in condivisione con 40 famiglie, perché la nostra casa è più piccola e abbiamo comunque bisogno di uno spazio dove riparare la bicicletta, dove lasciare una pianta prendere sole o stare fuori per prendere un po' d'aria. Quindi questi bisogni fisiologici continuano a esserci, le case sono più piccole, abbiamo bisogno semplicemente di girare queste superfici in un altro modo. Questi sono spazi comuni di Calcbrite, quindi c'è lo spazio per lavare con la lavanderia, ci sono spazi di lavoro, ci sono aule che possono essere utilizzate per conferenze, ci sono le cucine comuni, c'è il ristorante, quindi una cucina attrezzata. Poi andando su, entriamo già nell'ambito di avere solo residenze e comunque anche quando abbiamo solo le residenze, ci sono diversi tipi di residenze, ci sono dai monolocali alle cluster flat, come presentava prima Simonetta, quindi tanti appartamenti molto piccoli, poi uniti da uno spazio semiprivato che poi sboccia su un altro spazio semiprivato più pubblico fino ad arrivare alla parte di collegamento con gli altri spazi dell'edificio e c'è molta tensione posta a questi elementi, quindi le finiture non sono per forza costose, però c'è un interesse nel nobilitare anche gli spazi che sono di tutti, quindi non sono di tutti perché non è di nessuno, ma sono davvero di tutti, quindi sono anche arredati da tutti e c'è anche molta permeabilità visiva con gli altri spazi, in modo che c'è la coesistenza, anche se non c'è nessuno in quello spazio lì, è visibile da altri spazi dell'edificio. Questo li rende attivi. Quindi ci sono queste diverse forme di abitazione condivise, come dicevamo, le grandi unità con i bagni in comune e poi lo spazio pubblico fino a unità molto piccole, quindi l'idea di tante stanze con uno spazio comune oppure tanti appartamenti piccoli con uno spazio comune. Vado un po' veloce per riuscire a vedere tutto. Fin qui Zuligo. Adesso andiamo a Lione, Francia. Questo è un progetto del 2010, finito nel 2014. Sono più di 5.000 metri quadri ed è di Amonique Mason, che è uno studio francese che ha molti progetti molto interessanti di housing, per cui vi invito anche ad andare a vedere tanti altri progetti suoi che secondo me possono essere interessanti per questa situazione. Qui la parte da segnalare è che è un progetto nella Confluence di Lione, è un quartiere nuovo, master plan del 2010, realizzato tutto in contemporanea attraverso dei diversi anni, però diciamo che qui abbiamo quella situazione in cui costruiamo sul costruito che non sappiamo ancora come sarà, quindi non sappiamo come è il vicino, è difficile rapportarsi. Invece qui, in Francia, è una cosa che succede anche in Olanda, c'è l'architetto che coordina più architetti, quindi il master plan è diviso per zone, ogni zona ha un architetto che si occupa di coordinare gli altri architetti, in modo che, avendo consapevolezza di come sono magari i sei edifici di una certa area, riesce anche a comunicare questi altri come saranno i vicini, quindi si lavora un po' per, tenendo conto delle diverse scale in modo interscalare, non c'è l'idea di ognuno lavora per il suo edificio senza tener conto degli altri. Questo progetto di Ammonica e Mason è particolarmente interessante perché si solleva, sembra che si sollevi da terra e nel piano terra, il primo piano, sono dedicati a spazi pubblici comuni, spazi lavorativi e di condivisione. Mentre poi nella parte dell'edificio ci sono 125 alloggi, sono temporanei, sono dedicati, è una residenza per lavoratori o non, quindi un uso individuale della loggia perché sono monolocali e poi 27 alloggi in affitto dedicati a famiglie o a gruppi di persone che si mettono a vivere insieme, nel senso che sono appartamenti a più camere. Poi ci sono negozi e uffici. Quindi questo volume è interessante anche perché è molto articolato, sembra parzialmente scavato per rispondere a delle infrastrutture che sono anche vicine, quindi lavora a livello di una scala lontana nello skyline di questo nuovo quartiere e anche una scala molto vicina con lo spazio pubblico. Quindi questa è la zona dove ci troviamo, come vedete questa immagine è precedente alla chiusura della costruzione e tutto il quartiere e quindi è tutta questa zona qui, quest'isola in questo spazio tra il Rone e il qui. E poi abbiamo l'infrastruttura del treno, passa anche il tram, diciamo che è una situazione abbastanza complessa. Questa è una sonometria dell'edificio in fase di progettazione e loro partono con la progettazione delle due piazze che sono a un lato e all'altro dell'edificio. Poi in capo ai lati più stretti ci sono delle strade percorribili anche con la macchina, mentre nei lati lunghi apre su due piazze. Quindi come vedete tutta la pesantezza di avere un ritmo molto continuo di questi 125 alloggi monolocali si contrasta con l'apertura nel piano terra e nel primo piano. Quindi come scandire questa piazza aperta con una continuità visiva totale del piano terra da una facciata all'altra con uno spazio individuale piccolissimo del monolocale della residenza per lavoratori. Come vedete alcune parti sono proprio aperte passa l'aria fredda e altre sono chiuse sono aperte alla vista ma chiuse al passaggio. L'edificio ha diversi ingressi perché il suo volume scavato ci parla anche della coesistenza di due tipi abitativi che hanno un ingresso diverso. Quindi da questa parte c'è uno spazio commerciale che ha sé ha il suo ingresso proprio e da questa parte qui entriamo invece ai 28 alloggi per famiglie e da questa parte entriamo alle 125 monolocali strutturati come se fosse una residenza e agli spazi di lavoro e quindi anche qui c'è una sequenza di spazi dai più pubblici ai più privati. Questo è il lato dell'altra piazza dove gli appartamenti per famiglie hanno delle logge quindi sono anche caratterizzati diversamente in facciata e c'è questa visione attraverso l'edificio quindi qui stiamo vedendo in fondo l'edificio accanto il vicino quindi c'è una trasparenza totale. Vanno un po' veloce per riuscire a vedere anche l'altro esempio. C'è anche molta cura nei materiali per dire da lontano sembra un edificio bianco, liscio, di lamiera un po' impersonale invece a seconda di quando entriamo e più privati sono gli spazi c'è anche molta cura nel materiale con soluzioni semplici però diciamo cucite su ogni spazio. C'è anche molta permeabilità visiva come succedeva nel precedente esempio di Calcbrite tra i diversi tipi di spazi comuni in modo che quando passa qualcuno attiva questi spazi non solo quello attraverso il quale passa ma anche gli altri che sono connessi visivamente. Quindi questa è una sezione molto semplice dell'edificio come vi dicevo anche il volume scavato risponde alla differenza programmatica quindi qui abbiamo gli affitti i monolocali in affitto e qui abbiamo le abitazioni familiari c'è anche un parcheggio c'è questa intenzione molto dichiarata di alzare l'edificio e fare trasparente tutta la parte inferiore in modo che anche diventa un punto di riferimento nel quartiere visitando questo edificio si vede come è attiva anche la piazza perché ci sono dei servizi aperti a tutto il quartiere nel piano primo e piano terra non lo usano solo gli abitanti dell'edificio poi fino ad arrivare alle soluzioni più di dettaglio come schermare la luce come filtrare l'interno e l'esterno quindi va dall'apertura totale del piano terra a una chiusura gradualmente più importante fino agli spazi domestici questo qui vediamo molto chiaramente la parte dedicata agli alloggi familiari e ai monolocali e poi nella parte dei monolocali qui esistono altri spazi di lavoro spazi aperti spazi a doppia altezza che servono per per questa comunità terzo e ultimo esempio adesso siamo a Barcellona è anche una cooperativa in questo caso a differenza del secondo è uguale a Calcbrite si tratta di una cooperativa che nasce dal basso che poi in unione all'istituto d'abitaggio di Barcellona che sarebbe un'organizzazione comunale che si occupa di regolare il housing sociale a Barcellona decidono di investire su questo suolo viene dato in concessione il suolo a 75 anni e poi il resto viene della costruzione viene a carico della cooperativa ci sono 3.000 metri quadri 28 alloggi quindi una soluzione anche di una scala più piccola ci sono anche spazi commerciali e servizi in affitto questi spazi quindi appartengono alla cooperativa non vengono venduti e vengono occupati da commerci e servizi si propone un principio comunitario in generale per tutte le diverse scale e diversi temi della cooperativa c'è l'autodeterminazione e partecipazione degli utenti c'è il diritto d'uso di tutti gli spazi comuni si propone una vita comunitaria e il progetto insegue la sostenibilità ambientale e l'accessibilità economica facendo degli alloggi sempre più piccoli in modo che poter dividere lo spazio disponibile tra più persone per poter affrontare la spesa e poi avere degli spazi comuni di qualità e poi si fa molta attenzione anche allo spreco energetico dell'edificio quindi c'è un carattere nella parte di costruzione e sostenibilità molto importante allora qui siamo in uno storico quartiere ex industriale che mischiava industria pesante con tessuto storico quindi è anche molto particolare dal punto di vista dell'inserimento nella città si tratta di questo edificio qui di pianta più o meno quadrata rettangolare che dà su una via e su uno spazio vuoto quindi questa è la situazione dietro c'è un ex uno spazio industriale non recuperato quindi questa diversità dei due affacci delle due facciate lo rispecchia anche il progetto verso la strada abbiamo questa quasi facciata chiusa nel linguaggio invece poi è aperta perché tutta questa parte qui entra la luce c'è una comunicazione visiva ed illuminazione però non c'è un rapporto diretto questa è la situazione di un tessuto denso storico mentre la parte dietro che dà su questo grande spazio vuoto qui la vedete senza le tende per il sole qui già con le tende per il sole parla di tutto un altro linguaggio viene fuori anche il sistema costruttivo questo edificio è interamente realizzato in struttura di legno in legno è interessante perché porta qui un altro dei punti che verrà considerato nel bando che si è presentato oggi che è la flessibilità abitativa qui ci sono 28 residenze tra i 40 e i 76 metri quadri per poter alloggiare una diversità dentro la comunità quindi non che sia né meglio né peggio però qui si tratta non di un edificio dedicato a giovani anziani a famiglie ma che può accogliere diversi tipi di gruppi quindi partiamo da questa tipologia rettangolare in linea tipologia piccola di 40 metri quadri e a questa si possono unire degli elementi giolli un elemento che corrisponde a metà della superficie precedente oppure due che completa l'alloggio più grande poi da progetto viene posizionata la posizione degli scarichi della mandata degli impianti e poi la soluzione in particolare di come vengono configurati i servizi attorno a questo nucleo può essere variabile e in questo caso vediamo tre alloggi che hanno deciso di mettere la parte dell'antibagno sopra il bagno qui invece altri ce l'hanno qua sotto e questo l'hanno potuto anche in fase di progettazione essendo una cooperativa relativamente ridotta decidere gli inquilini per avere due stanze più o meno equivalenti da una parte e dall'altra del nucleo o avere nettamente una stanza più piccola e una stanza più grande in tutti e tre in tutti e tre i casi c'è lo spazio semi aperto semi chiuso nella loggia dando importanza anche a quel rapporto anche pur quanto piccolo e questa è un'immagine degli interni le finiture non in modo così radicale però in linea con quelle presentate che sono presenti negli edifici di cooperative zurichesi vanno al minimo quindi a trovare dei materiali che vengono finiti bene però senza troppi particolari troppi elementi di finitura che riescano a fare sostenibili operazioni dal punto di vista economico la flessibilità abitativa non si traduce solo nell'avere diversi un quadro molto grande di diversità di tipologia abitativa in modo canonico come siamo abituati a studiare però la flessibilità abitativa si traduce anche nell'avere diversi spazi comuni perché questo permette anche di avere una flessibilità di utente e di modi di vivere quindi non solo guardo la diversità abitativa quando guardo l'unità abitativa che poi sarà proprietà privata ma anche gli spazi pubblici e comuni scusate quindi qui abbiamo una cucina sala da pranzo lavanderia lo spazio multifunzionale che poi però qui funziona sembra spazi per gli ospiti uno spazio sanitario un deposito per le piante il cortile le terrazze quindi questo edificio ricorre a una formula tradizionale del balatoio è un balatoio non centrato adesso vedrete nelle piante in modo che creiamo creano una cortile di utilizzo coperto dai pannelli trasparenti in copertura che si può utilizzare tutti i giorni dell'anno ma permette la fruizione dell'edificio a modo di balatoio quindi questo è il piano terra in cui tutti gli usi sono pubblici o comuni di quelli che abitano nell'edificio c'è la cucina comune che è questa qui con uno spazio per mangiare un piccolo soggiorno quindi qui si replica come se fosse lo spazio della grande casa familiare che è questo qui poi salendo abbiamo due tipi di piante abbiamo quello in cui è tutto si riempie con lo spazio abitativo come vedete lo spazio del balatoio o le terrazze che sono in continuità hanno la stessa interpretazione e poi c'è la pianta dove questi questi alloggi qui saltano per creare questo spazio comune aperto a chi abita nell'edificio che è questo spazio qui che ha il suo proprio collegamento anche una rappresentanza un collegamento di luce con l'esterno e ci sono anche le lavatrici qua come vedete quindi non hanno dovuto ricavare lo spazio per le lavatrici togliendo spazio per un'altra cosa però lo fanno coesistere in modo che è anche sempre attivo perché appunto non c'è bisogno che ci sia una cosa straordinaria perché questo spazio venga utilizzato c'è la coesistenza dell'uso straordinario e l'uso più quotidiano che fare le lavatrici o far giocare i bambini questa è una sezione in cui si vede qui la piazza e la copertura lo spazio anche in terrazza per per stendere c'è questo interesse alla sostenibilità e la qualità ambientale tutto costruito in legno come vi dicevo precedentemente si vede anche da queste immagini quindi c'è molta attenzione anche alla qualità costruttiva e all'innovazione costruttiva è un'opportunità per andare oltre allo schema già provato poi qui è stata fondamentale anche la partecipazione passo avanti perché ormai siamo fuori fuori tempo però è stato anche molto interessante come loro descrivono che questa partecipazione è avvenuta attraverso dei workshop che lavoravano non solo alla singola abitazione di ognuno dei futuri abitanti ma al programma esteso dei servizi alla strategia ambientale alla costruzione facendo ripartecipi di tutte le fasi di progetto grazie bene grazie grazie grazie